E benvenuti, benvenuti in questo nuovo episodio, c'è qualche cambiamento. Come ho detto nel precedente episodio, ho installato l'Applied Energistics, non pensavo di riuscirci, ma ci sono riuscito, e quindi mi sono organizzato tutto l'inventario, non avremo più problemi di inventario, perché ogni volta è una rottura di cazzo. Detto questo, ho fatto una chest con le cose da mangiare, giusto per laverle, per averle un pochettino più a portata di mano, non posso dormire, io volevo dormire, fatemi vedere che cosa c'è qui fuori, è notte, no, c'è la Blood Moon. Ah, però la Blood Moon potrebbe esserci utile per farci, per farmare un pochettino, per farmare un pochettino di robetta, tipo loot bags e cose del genere. Quindi a sto punto io rimarrei, vedete che c'è già gente che sta venendo a rompere i cuglioni, tipo sto Shadow Claimer. Vediamo un po' se... C'è anche uno stronzo qua, Fallen Knight. Fallen Knight dovrebbe dare la loot bag. Il problema è che io non ho abbastanza frecce per spaccare il culo a sti stronzi. Vieni qua, Fallen Knight. Chiappa l'acqua. Ok, vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Cazzo, ci sono troppi... Ci sono troppi frecciaroli. No, mi sa che non mi ha dato nulla sto stronzo. Troppi frecciaroli, troppi frecciaroli. Non è stata una buona idea andare... Uh, cazzo, qua avevo scavato. Oddio, mi sto per incastrare, raga. Mi sto per incastrare malissimo. Ok, però ancora ho... Cristo santo, troppa gente, troppa gente. Eccolo il loot bag. Una loot bag. Un creeper. Che è morto. Credo, no, forse, boh. Ok, la loot bag l'ho presa perché c'ho magnetization. Allora, ragazzi, qui la situazione è tosta, eh. È tosta. Però io ce la posso fare. Non so perché ho ancora l'energia. Credo che gli zombie non mi diano... Ah, anche gli zombie danno la loot bag, ma quindi la danno tutti. Aiuto, aiuto. Aiuto. Ok, 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 ok. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Zombetto, zombetto muori. Zombetto muori, tu muori pure tu. Porca puttana. Zombie a non finire. Zombie. Questo è uno zombie di quelli elite. Ok, ragazzi, ritirata. Ritirata, 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 ritirata. Aiuto. Troppa gente, troppa gente, troppa gente, troppa gente. Cristo santo. Chi cazzo è lì sopra? C'è uno sopra casa. No, la Blood Moon è tosta. Dammi la loot bag. Vai sopra, vai sopra, vai sopra, vai sopra. Oddio, ho lasciato pure la porta aperta. Entra! Ragazzi, guardate quante cazze di loot bag. Tra l'altro anche rare. Buono. Ah, io ho messo la Towncraft in modalità semplice. Vediamo se funziona. No, comunque devo. Vabbè, fa niente. Uncommon loot bag. Fancy lantern, zombie merda. Unstable ingot. Questa è tosta, perché l'unstable ingot rischia di scoppiarmi in mano. Una Fern Seeds. Che so sti suoni? Ok, sto aspettando che faccia giorno, così muoiono tutti e mi fotto le loot bag. Witchcraft. Nano Steal e... Mana Affinity. 10% less mana cost. Però questo penso che sia un abbastanza scarsico. Ah no! Mi danno la stessa... Mana Tools. Regen... Regen... Angerism. Porto. Terra Seen Helmet. Ah ok, c'è bisogno dell'armor set. Ok, allora cominciamo a buttare qualcosa dentro qua. Sentite qui giù che c'è veramente di tutto? Io penso di non poter più uscire. Raro. Elementium. Book of Biomes. Ender Pearl. Buona. Hacemos Sapling. Ok, buttiamo dentro anche questo. Mi piace sta cosa che ci stanno tutte le loot bag. Tipo io le amo. Tipo io le amo proprio. Cactus Sword. Vabbè. Ah, il Mutandis. Buono. Fancy Lantern. Secondo me la possiamo appendere da qualche parte, tipo qua. Che fa cagava, vabbè. Difensi c'ha poco e niente. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Guardate quante cazzo ne sono. Però io devo andare in ordine. Questa è rare. Legendari ragazzi. Allora, uncommon. Laminated Padding. For leggings. Sti cazzi. Poi abbiamo le rare. Con Water Shard. Buono. Mana Steel ancora. E Ring of Entropy. This discount perdizio. Questo qua è buono per quando si fa Towncraft. Io me la metto tanto sti cazzi. Un altro raro. Con della Hay Bale. Ottimo. Benissimo. Sono ovviamente Polinesia Charm. Talks to the animal. Minchia, se questa è rara. Vediamo sta Legendary. Con uno Scarab Jam. Ed un Demon Art. È tutta roba di Witchery, però. Scarab Jam cosa mi fa fare? La Scarab Axe. Solo Scarab Axe mi fa fare? Con qualsiasi tipo di cosa. Ok. Scarab Ove. Quasi Scarab Jam. Beh, oddio. Non è proprio il massimo. Fammi vedere. Otto. Otto e mezzo. Ma io ce l'ho già l'Enchanting Table. No. Ok. Devo farmi una cosa per Enchantare. Quasi quasi ci faccio la spada, però. Con cosa c'è bisogno di... Ho Gesù Cristo. Con la spada di diamante o con la spada di gold? Io ho una spada di diamanti. Dovrei averla. No, non ce l'ho. Ah, non c'ho proprio diamanti. Non ho proprio diamanti. Bene così. Ok. Allora, questo qua è da rimandare. Il Demon Art dovrebbe essere veramente molto molto buono in Witchery. Cioè, molto raro da prendere. Molto difficile da prendere. Quindi va bene il fatto che me l'abbia dato. Qui c'è ancora lo stronzo. Concussion Creeper. No, no, Creeper, no. Porca Eva. Sto stronzo di merda. Che mi hai dato? Ender Fragment e Confusing Powder. Ender Pearl. Ah, è un omico. Non ci credo. Ring of Air. Quindi ci prendiamo pure questo e ce lo mettiamo. Così abbiamo un bis discount per l'Air. Air, Air. Ok. Allora, qui sarebbe buono riuscire a... Dare la botta a qualcuno. Ma il problema è che... E che questi mi fanno il mazzo. Sono troppi. E mi sparano pure le frecce. Cosa cazzo è? Un creep... No, 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 no. E lo sapevo io che succedeva questo. Lo sapevo. Lo sapevo. Aiuto. 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 No, 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 no. No, buono. No, buono. No, buono. Datemi... I cazzo di loot bag, per favore. Mi state dando? No. Uno ce n'ho. Sta Blood Moon è allucinante, comunque. Questo? Spirit. Perché escono sti spirit? No, scusami. La mia spada. La mia spada dove cazzo... Ok. Anche una meteora. Ci mancava la... Ma aiuto, il creeper! Cristo santo, non ci sto capendo più. Un cazzo. Sta uscendo di tutto. Sta uscendo. Dove è caduta la meteora? Datemi la meteora. Esplodi pure. Che cazzo me ne frega a me? Chi è quello? Mi devi dare la loot bag, però. Bag on donut. Donut. No donut. Donut. Do. Allora. Questo qui è uno skeleton. Che c'ha? Le ali? Che cazzo c'ha? Che cosa è? Chi è? Che cazzo sta succedendo? Cosa? Cosa? Ma non fa mai giorno qua? Enderstorm. Sono morto! Oddio, non me ne ero manco accorto. Non me ne ero manco accorto che stavo per morire. Allora ragazzi, qualcuno ha detto che non gli piace il fatto del keep inventory. Io sono d'accordo con voi, perché rovina un pochettino la cosa. Però, finché non mi faccio... Ok, ci sono... Ok, sta per uscire il sole. Quindi qua bisogna attirare più mostri possibili. In modo da farli morire. Aiuto. E no, però così. No, così. Ma io ho l'armatura, secondo me, che ormai è andata. No, fatemi salire. Fatemi salire, pezzi di merda. Ok, sono morto un'altra volta. Troppi scheletri di merda, non riesco a salire. Porca puttana. Vabbè. Ok, vedete, stanno morendo per il sole. E questa è una cosa ottima, perché poi lasciano tutte le loot bag. Quindi, li lascio morire, in santa pace. Venite tutti qua al sole, per favore. Sono già morti tutti? Già? Wow. Sì, ma me dovete da... No, dammi i miei livelli, per favore. Ecco, 31 livelli, perché mi servono. Sono morti, ma dove sono le loot bag? L'altra volta mi ha riempito. Non ci sono loot bag. Pochina. Poca roba, poca roba. Comunque, la blood moon è una cosa che va sfruttata assolutamente, perché, ragazzi, è ottima, è ottima. Allora, apriamo ste loot bag. Allora. Abbiamo epic, rare, queste epic, common, quindi le bianche sono common, queste sono epic e queste sono rare. Immagino che la epic è migliore della rare. Abbiamo un lexica botania, che va assolutamente cominciata. Cactus fruit juice, fur boots e cactus axe. Ste cazzo di cactus, boh. Zombie head, book of biomes, backpack. Sì, grazie. Camouflage, dai. Roba che non userò mai, vabbè. Ok. Ottimo il lexica botania, mi serviva. No, questo no. Questa roba la buttiamo tutta dentro. Abbiamo 14 frecce, è un arco di merda. Abbiamo anche un music disc, fantastico, li adoro. Witchcraft, sti cazzi. Poi, rare, con del nitor, che ci serve per la towncraft, però non so bene per farci cosa, ma vabbè. Perché non la so usare ancora. Allora. Epic loot bag con un gold horse armor. Che merda. Meno male che era epic. Un elementium chest plate. Un empty water skin, uno sharpening kit, tool of weapon upgrade. Efficiency 3 e sharpness 3. Minchia. Chissà se posso brew bag, che non so cosa serva. Canvas, elementium pickaxe e un diamond chisel. Chisel e carruccio. Chisel e carruccio per fare tutta la decorazione di casa. Io questo sharpening kit me lo voglio tenere da parte, perché mi potrebbe servire. Ottimo il backpack. Ottimo questo. Io continuo ad avere problemi di armatura, però. Abbiamo dell'armatura che fa veramente cagare. Ce l'abbiamo gli emerald. Poca roba. Perché veramente c'è... C'è... Poca roba nella... Allora, non posso graftarli così con gli emerald, no. Forse posso farci solo alcune cose, vabbè. Però io ancora ho la piccozza che funziona. In... Ah, io ho la gold pick... Io ho la gold pickaxe. Però non credo di poterla aggiustare qui dentro, perché non è roba della... Come vedete? No, purtroppo no. Ok, per fare la gold pickaxe bisogna andare a recuperare il gold della cosa. Ah, dicevo, non ho trovato niente di particolare a livello di... Come si chiama? Di... Intanto le bistecche mettiamole a cuocere. A livello di... Scusatemi un attimo. Better. Allora, dopo la iron c'è la gold. Ok, io il gold non ce l'ho. Boh, io non lo so, perché sta roba non la trovo mai. Taumometer. Dove sta? Eccolo qua. Allora, io voglio capire che cosa succede se... Oddio, come si chiama la bacchetta magica? Cristo. Mi serve la bacchetta magica, ma non mi ricordo il nome. Fatemela cercare un attimo. Ok, allora, ho scoperto che il platinum... Ah, però platinum mingot, platinum bar. Ah, cazzo. Cazzo. Pensavo che fosse lo stesso. C'è la platinum broadsword che è molto, molto più... Cioè, molto. Ha 10 e questo ce n'ha 8,5. Però questo ce n'ha la sharpness. Però voglio vedere se funziona. Cazzo, non funziona. Perché su questa funziona. Su questa no. Però possiamo sempre enchantarcela. Io volevo farmi in realtà la pickaxe. Però, niente, la pickaxe ci teniamo questa e ci prendiamo questa bella platinum che è comunque 10. E non è male. E questo ce lo teniamo da parte. Bisogna assolutamente enchantare sta spada. Anche se non so se è una cosa possibile. Allora, X. Purtroppo sta mappa non si può scorrere. Questo è un bel handicap. Io direi che possiamo tornare. Solo che io non c'ho nel metto decente. Porca troia. Come faccio a farmi nel metto... Vediamo un pochettino. Se abbiamo qualcosa sempre di terraria. Allora, abbiamo il copper. Abbiamo l'emerald gem. Diamond gem. Poi abbiamo... Iron nugget. Che non c'entra un cazzo. Poi abbiamo, abbiamo, abbiamo. Vediamo un po'. Perché io ho l'elmetto che fa veramente... Sapphire. Magari è buono. Questo è per l'ordo. Silver. Tin. Quello è topazio. Chissà se può servire a qualcosa di utile. Ok, allora, questa è la roba di terraria che abbiamo. Quindi, vediamo un po' se possiamo fare un elmo. No. In emerald. No. Che palle. A che cazzo serve sta roba, dico io? E la madonna. Meteorite bar. Però ci serve un meteorite ore. Che io non ho. No. No, perché questo è di folli in meteors. Minchia, questa è fantastica. È fantastica. Oppure con questa. Blue face blade. Sempre con la meteorite bar. Io adesso voglio questo meteorite ore. Dobbiamo andare alla ricerca di questo meteorite ore. Però ci andrò per i cazzi miei. Sì, ma... Dammi qualcosa di buono perché... Mettiamoci questo e poi speriamo di trovarne un altro. Io voglio tornare assolutamente lì. Comunque mi è piaciuta sta cosa della blood moon, eh. Ma proprio tanto. Devo trovare un po' di robetta di terraria. Perché se riesco a trovare quel meteorite... Siamo a cavallo. Io non ho roba da mangiare. Bravo. Vabbè, qua dentro tanto c'è. Anzi, ci prendiamo anche queste. Così abbiamo qualcosina da mangiare. Vediamo se possiamo... Prendere qualcosa qua. Stonebricks è già presi. La lana no. Ok. Ah, qui c'è la torta. La torta non mi dà nulla. Che palla. Fornace invece... Oh, grande! Immazza parecchie. Buona la fornace. Questa l'abbiamo già vista. Allora, continuiamo un attimo a vedere che cosa abbiamo qua. Scusatemi, sì. Basta un attimo perché è veramente altissimo. Il sapling. No. Qui è pieno di banner. E io sto di nuovo senza torce. Ma si può essere così coglioni da andare all'avventura senza torce? Boh. Probiamoci queste che ci serviranno per... Farci la nostra... Meravigliosa cosa per incantare. E qui sento parecchi mostri. Che stanno? Che stanno? Ah, ok. Adesso mi ricordo. Adesso mi ricordo tutto. Eravamo qui ed era pieno di mob. Però nel frattempo io mi ruberei tutti questi libri che ci serviranno come il pane. Accenditi tu. Ho rubato praticamente tutti i cazzo di libri che erano lì dentro. Chi è? Chi è? Chi sei? Muori. Ho rubato tutti. Tutti i libri che erano lì dentro. Perché non mi dai il pesce? No, 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 no. Bello, ridammi la mia spada. Ok. Fornace con roba da mangiare. Buono. Perché non ho acceso la luce qua? Come al solito. Vediamo qua se c'è qualcos'altro. No. E andiamo avanti. Sto posto lo dobbiamo ripulire tutto. Ciao stronzo. Devi morire. C'ho una spada da dieci eh. E non ho paura di usarla. Sì, dammi le gold nuggets che non ho oro. Cioè non si capisce perché non si trova l'oro a sto posto. Qua non c'è niente. Ok. I piani di sotto sono quasi tutti puliti mi sa. Perché alla fine mi sono venuti tutti addosso. Diamond dagger. 2.55 speed. Che vuol dire? Devo vedere. Oh mio Dio. No aspetta. Non ho capito. Cioè faccio così. E corro. Ma è bellissimo. Potrebbe esserci molto utile. Atlarus chestplate. Astral. Oh minchia. Minchia. Buona sta roba. Nel metto no eh. Atlarus tornus 2. Sembra abbastanza buona. Astral silver leggings. Questo mi dà un po' di meno però mi dà protection 2 e progettile protection 3. Quindi direi che non è... Non sembra essere per niente male. Posso dormire? Oh grande. Grande. Questa... Questo episodio lo chiamerò impresa di pulizia perché sto finendo di pulire sto posto. Tu che cosa fai nascosto qui dietro? Guarda che ti vedo stronzo. Pazzo di merda. Chissà se è meglio quella spada in iron. Piuttosto che quella che c'ho. Che mi sono fatto con tanta... Perché questa c'ha sharpness 2. Ed ha 10... Cos'è? Cos'è sta roba? Cosa fa sta roba? Oddio è una figata perché riesco ad attaccare in maniera molto 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 più veloce. Minchia così faccio male. Secondo me è meglio questa che quella che c'ho. Mi sembra di aver fatto tutto il perimetro. Voglio solo controllare una cosa. E lo farò... Sto pettando così. Perché? Ho avuto... Mmm... Ho visto una cosa che non mi piace. Ho avuto l'impressione che mi... Si scalasse... L'esperienza. No. Però mi sa che mi consuma... Langer? Non lo so. Allora. Ecco qua. Infatti mi ricordavo bene che avevo... Si vabbè ma è merda. Togli sta roba. Uh. C'ho una common loot bag. Che non ho aperto. Con... Non ci credo. Non ci credo. No ragazzi è bellissimo. Che cazzo è questo? Muori. No è fantastico. È fantastico. Per chi non lo sapesse quel coso lancia le torce. Bisogna caricarlo a torce e praticamente si hanno... Un jukebox. Mio. 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 Che ho anche il disco. Praticamente con quel coso lì si lancia... Cazzo. Cioè non ho fatto a tempo a nascondermi che già... Muori. Merda. Ecco bravo dammi la loot bag. Roba da mangiare non finire. Ho bisogno del backpack. Perché qua c'ho troppa roba. One common. Ottimo. Ok. Posiamo tutto compresa pure quella. Roba lì. No ragazzi è fantastico. Io sono stracontento di aver trovato quella cosa lì. È bellissima. Sanson Sword e Mondan... Lentening Catalyst. Non saprò mai cosa sia. Di cosa si tratta. Ok. Allora. Accendiamo anche qui sempre per vedere... Melon. Qui ci sono praticamente... Io queste me le prendo perché potrei farci una bella coltivazione che le pumpkin sono facili da fare. Invece i melon... Boh. Non lo so. Perché i melon è vero che ne sono parecchi. Però danno pochissimo di... Non lo so. Sinceramente non lo so. Adesso decideremo. Tanto... Oh. 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 Tutti via. Tutti via dovete andarvene. Ok. Mi stanno chiudendo. Mi stanno chiudendo. Ok. Perfetto. Mi sono... Sbrigliato. Vai. Si continua con l'impresa di pulizia. A me sembra che io cammino piano. Non so il perché. Ok. Lì c'è uno stronzo di quelli speciali. Che fanno le magie. Quindi dove sei? Muori. Matrix. Vigil. Chiunque tu sia. No. Non fare queste cose. FGF. Ce la facciamo. Ok. Bravo. Accendi pure qua. Un creeper con la faccia incazzata. Perché è un concussion creeper. Vabbè ma ogni volta devono uscire sti spiriti. Vabbè. Ok. Qui c'è gente. C'è parecchia gente. Ma mi sa che ci sono pure chest. Io che voglio accendere ma non ce la faccio. Muori pure tu. Accendi la luce. Lo spirito là che va in giro ormai. Come abbiamo capito che è così. E non c'è nient'altro di buono. Invece sì. C'è una mela. Ma è una golden apple. Ok. Però non è magica. Tu devi morire. Malissimo. E' sta spada che quando picchio mi fa andare piano. Ecco perché vado così piano. Common loot bag. Con creeper head, zombie head, witchcraft. Ce ne abbiamo un miliardo ormai. Qua vedete che danno veramente poco sti cazzo di meloni. Troppo poco. Non mi piace. Ah ma io non c'ho più magnetization. Io stavo tranquillo che pigliavo tutta la roba. Ah peccato però. Magnetization è troppo comoda. Chi c'è qui? Ok è un corridoio. Accendiamolo. Andiamo a far fuori anche sti stronzi. Non potete spararvi tra di voi magari? No. Ok qui ci sono delle chest. Non c'è nessuno? No. Allora golden sword, iron spear, copper chestplate. Sti cazzi. Un electrum leggings. Io adesso ho gli astral silver. Quindi penso che siano migliori quelli che ho. Almeno credo. Arrow e entropy arrow. Accendiamo qua. Continuiamo a lootare sto posto. Che è l'impresa di pulizia e non si può fermare qui. Qui ci siamo stati. Qui non c'è nulla. E qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Quindi andiamo di qua. Chi è? Ok. Sembrerebbe essere pulito questo piano. Ok. Io qua ci sono scappato. Quindi ci rimane il piano superiore. Speriamo che ci sia qualche boss o qualcosina. Anche se dubito. Ma vabbè. Ci rimane questo piano superiore. Che io ho già visitato in parte. Quindi adesso vediamo un pochettino. Ecco lì ci sono anche morto. Quello se è fatto male da solo non si sa come. Ok. Vai con il rare. Io sto finendo l'inventario. Abbiamo un terrestri a ragomere. Cross of mercy. La cross of mercy dovrebbe essere buona contro i non morti. Uh. Uno scarab gem. Un'altra. Io ho visto una loot bag ma non... Non la vedo. Sono io deficiente? Sì sono io deficiente. Legendary. Che cosa ci dai? Un automatic maiden's head. Non credo che sia una cosa utile ma vabbè. Uh lì ci sono morto e c'è anche dell'esperienza. Grazie. Era mia. Me ne sono ridata. Qua bisogna trovare una cesta e posare un po' di roba inutile. Perché comincio ad averne un po' troppo addosso. E comincio ad avere poco spazio. Cazzo quanti ne sono. Cazzo quanti ne siete. Quanti. Ma se io faccio così vi spacco il culo a tutti. È abbastanza. Abbastanza. Però la sto ultra sprecando sta spada così. Però comodo. Non devi curarti. Stronzo di merda. Ok. Li abbiamo fatti fuori tutti. Ragazzi sono ultra potente ma sono quasi morto anche. Quindi direi di mangiare. Anche perché sta per arrivare uno stronzo. Io penso di aver messo la roba da magna qua infatti. Ok. Il problema adesso sono. Che cos'è questo coso? C'è qualcosa che. C'è un'ascia. Hunted tool. Che mi dà lo stesso tool. Bene. Dov'è la... Ok. White stone. Non so cosa sia. Jelly beans. E... Cazzo. E cactus fruit juice. Sti cazzi. Nel frattempo si avvicina un altro haunted tool. Che è una schifosissima... Che... Chi cazzo è? Oh cazzo. Io a te non t'avevo visto. Oh. Sono rompicoglioni però sti cosi eh. Ragazzi scusatemi. Devo stare a notire. Ok. Mi si è rotta la spada. Cazzo. 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 L'altra spada penso che sia nel... Ok. Questa qui. Ok. No. Non buttare questa. Che cazzo butta questo? Ma cosa? Festive creeper di tua nonna. Cioè ma io non lo so. Questo butta roba così. Cioè allucinante. Ha fatto un buco. Ha fatto allucinante. Vabbè. Comunque io devo capire come cazzo devo fare qua con la roba. Allora. Devo buttare un po' di roba. Assolutamente. Sperando di non cadere. Ok. Allora. Magna. Pumpkin. Prima li ho presi poi li butto. Vabbè. Questo è... Blood magic. Ah sti cazzi. Stone. Zombie. Laun. La testa di questo. Questa. Questo. Oddio quello forse era meglio non buttarlo. Ma vabbè. Bronze leggings non mi interessano. Questi non mi interessano. Sunflower seed non mi interessano. Poi. Abbiamo. Quanta roba inutile abbiamo qui. Allora. Witchcraft già ce l'ho. Eh. Roba da mangiare qua. Questa la metto qua. E questo la metto qua. Che questi ce li mangiamo praticamente subito. Frecce. Questi che sono un po' più buoni. Platinum broadsword. Allora a sto punto facciamo così. E togliamo questa. E sandstone sword non mi interessa. Capo coffee. Il resto penso che non mi serva. Ok. Avevo fatto un minimo 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 di pulizia. Però qui c'è una loot bag che dobbiamo andarci a prendere. Ed aprire ovviamente. Brownie. Ok. C'era su sapling. Non so se c'era su so. Taomiumingot. Potrebbe essere interessante. Oh oh oh. Tu chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Piccolo piccolo. Chi sei? Stronzo. Ok. Qui vedo che c'è ancora gente comunque. Quindi bisogna continuare a fare la pulizia. Assolutamente. No. Non volevo aprire questa. Quella la devo posare perché. Quei cosi non mi interessano. C'è un tizio qui. Un tech brew. O tech brew. E ci sono degli zombie che stanno arrivando da sopra. Con delle loot bag. Quindi grazie. Ok. Andiamo avanti ragazzi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Io sto facendo tutto questo. Cosa. Perché so che vi piace. Io spero che vi stia piacendo. Perché altrimenti. Non ho fatto un cazzo. Questa la mettiamo qua. Così la finiamo. E ci si libera uno slot. Allora. Abbiamo delle common. E delle uncommon. Questo lo prendo. Stone tablet. Non me ne frega un cazzo. Anzi. Lo prendo perché non so cosa sia. Di che hai due raw fish. No. Questa mi dà una manastilax. Buona. E questo mi dà mushroom risotto. Oh. Golden nugget. Grazie. Grazie. Questa web di witchery. Non so se è una cosa buona. Quindi me la lascio. Poi. Uncommon. Shiny bubble. Che non so cosa sia. E questi due. Che possiamo buttare. Ok. Perfetto. Direi che ci siamo. Giriamo attorno a sta roba. Che non ci serve. Accendiamo la luce qua. Per indicare. Che ci siamo stati. E penso di aver finito. Finalmente sto cazzo di piano. Secondo me sì. Perché di qua penso che. Non ci sia nessuno. Di averlo già passato. Sì. E di qua anche. Perché era la parte del corrido. Ragazzi. Possiamo salire. Penso. Ah. Accenditi. Oh. Sì. Direi che possiamo salire. Perché non ho acceso questa. Siamo pronti. Sì. Porca troia raga. È enorme sto posto. È enorme. Chi c'è qui sopra? Ok. Qui c'è un po' di gente. Che già mi sta venendo addosso. Adesso mi verranno un po' da troppi lati. Per i miei gusti. E mi stanno facendo troppo male. Per i miei gusti. Sto morendo. Sto per morire. Non va bene. Non va. No. 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 Ecco sono morto. Sono morto. Sono morto. Sono morto. Che cazzo è successo? Mi ha teletrasportato. Oddio. Mi ha teletrasportato giù. Grazie Creeper. Grazie Creeper. Ti voglio bene. Che sto che fa? Oh cazzo. Oh cazzo. No. No. Non potete venire da su però così. No. Vabbè. Ma tutti qua state. Madonna. Ma quanto cazzo mi seguono? Dai che ce la faccio. Ok. Devo prima aspettare di recuperare un attimo energia perché altrimenti non faccio nulla. Qua non posso trasferire nulla. Eh no. Sono strapieno come un uovo. Ok ragazzi. Direi che ci siamo salvati a culo. Però ci siamo salvati. Quindi possiamo ritornare qui sopra. Però bisogna prima aspettare un secondo solo. Ma io non ho uno non ho l'elmetto. Ecco perché mi facevano pure così male. Quello che è? Un support Creeper. Te ne vai di là? Grazie. Grazie caro. Ti voglio bene. Nel frattempo ho preso una patata. Io sto senza elmetto. Ma ha dato di tutto. C'è split. Stivali e tutto. Ma gli elmetti manco per il cazzo. Ok. C'è un. Un enderman. Che non voglio guardare. Vabbè ma è il cazzo però. Io l'enderman me lo posso pure fare. Ma sì ma il creeper no. Vieni qua enderman. Dove stai? Oddio. Che brutti suoni. E c'è gente già. Questo è il. Concussion. Questo è quello che. Ma teletrasportato. Ok. C'è una bomba. Ok. Però non è accesa. Stavolta. Perché l'altra volta era accesa. Buono tu che mi dai. No. Boh no. Scusami eh. Dove sta quella? Ah no. Ok. Secondo me sto andando troppo sopra per l'equipaggiamento che ho. Mi sono quasi certo. Dove andiamo a finire qui? Lì c'è un creeper con un cappello. No pure perché mi sono quasi rotto di farmi sto posto. Quindi vediamo di concluderlo. Tra l'altro non so da quanto cazzo sto registrando. 36 minuti raga. Madonna. Allora. Vabbè ma dammi qualcosa di buono. Cristo santo. Allora. Intanto il rare. Che mi dà? Scuba tank. Helmet upgrade. Uh. Bravo. Koal. Mana steel leggings. L'heal pad of fertility. Buono. Buono l'heal pad of fertility. Però continuo ad avere roba che è inutile ma vabbè. Questo lo voglio. Perché altrimenti per farmelo mi servono i blades che non ho. Qui c'è un creeper che mi sta venendo. E che mi butta. Ma cosa? Ma come ti permetti? Non funzionano così i creeper. Cos'è sta roba? Togliamo l'enchant. Shiny bubbles secondo me è una cagata. Frozen meat. Steel bow. Steel bow. Bravissima loot bag. Bravissima. Brava brava brava. Ok se andiamo su. Vediamo se c'è qualcosa interessante più su. Visto che fino adesso. Un po' di robetta buona me l'ha data eh. Ma quanto cazzo è grande sto posto? Aia. 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 Ma no. Ma era uno. Perché adesso sono 20? Perché non vedo un cazzo? Sono morto. Perfetto sono morto. E sono responato qua perché sono un idiota ed ho dormito qua. Complimenti. Complimenti. Però io sapete che faccio ne approfitto e me ne torno a casa. Perché direi che l'impresa di pulizia ha lavorato fin troppo. Ha fatto fin troppo gli straordinari. No 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 non cadere. Ok. Abbiamo fatto fin troppo gli straordinari. Che corro così tanto? Un'altra meteora. Io ho il terrore che mi cada sopra la testa ma vabbè. Comunque potrei cominciare a pensare di fare il meteor detector perché ho recuperato un sacco di... Cioè non un sacco però ho recuperato un discreto numero di meteore... Di meteorite. Quindi meteorite è il materiale. Purtroppo non quello di... Della Terraria 3D che sarebbe stato fantastico. Allora. Roba da magnà la mettiamo qua. Così intanto ce la togliamo dai coglioni. Perfetto. Poi. Uno, due, questi. Togli, 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 togli. Questo lo voglio subito mettere giù. Music disc. Vai. Queste sono tutte cose che posso buttare dentro. Questa no perché sarà... Il brewing stand anche. Io direi di metterlo da qualche parte. Ok. Mettiamo questo. Questo è helmet upgrade ma prima dovrei avere un helmet. Dopodiché abbiamo tutta la roba del backpack. Compresa la roba da magnà che metteremo tutta qui. E sta l'altra roba che... Adesso mi farò una stanza con... Che mi darà la possibilità di... Enchantare. Ho messo una cup qua e soprattutto un bow. Questo qua lo voglio. Deve essere uno strumento. Allora... Allora... Ma che poi si fa più veloci già così? Invece se faccio così... Cammino proprio velocissimo. È fantastico. Con questo ci andremo in giro un po' nel prossimo episodio. Io spero che vi sia piaciuto questo episodio. Io adesso... Non so che cosa farò se... Continuerò a giocare per... Sì, quasi quasi registro un altro episodio adesso. Così ce l'abbiamo anche per dopodomani. Perché questo è l'episodio di domani. No, questo è l'episodio di... Vabbè, comunque. Ciao ragazzi.